musica eccoci qua ragazzi ben ritornati sul mio canale oggi siamo con la sesta parte di Outlast e dobbiamo attivare le pompe per spegnere l'incendio nelle cucine via che ci eravamo lasciati che c'era il wall rider però vabbè inutile che ci spaventiamo tanto lo dobbiamo affrontare sto paziente cucu cucu tete mettiamoci qua tanto lo sapevamo mettiamoci il pace in cuore peace and love fratello peace and love no non vieni eccolo eccolo attenzione che arriva no no non premo nessun pulsante io non lo sento più no 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 la prima sicuramente viene quindi oppala io ho sentito le catene io ho sentito le catene poi sul respiro non promette bene dove sei dove sei? mmm dove sei? ok non riesco a sentire più i passi proviamo? che che via 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 Piano, eh? E' lì dentro, ragazzi E' lì dentro Ce n'è qua l'altra No, no, non tornare indietro Per carità Che cazzo hai qui dentro? Chi va? Oh Che fai tu? Fai bravo Il prossimo secolo Io? Perché? Ma dai, cosa fa? La pancia? Le braccia? Ogni più piccola fessura? Finché non troveremo la chiave? No, questo è un manicomio Dai, ma perché laghi così oggi? Ma che palle Cristo Smettila Ok Non c'è una batteria qua Niente Niente No Ti chiudo anche la porta, va? Bene Ok Dove sei? Hmm C'è anche una porta là in fondo Però se noi abbiamo già aperto le valvole Perché andarci? E poi lo stronzo neanche si vede Oddio Sta ammazzando qualcuno? Non farti male, eh Che l'assicurazione non copre in tempo di crisi Piano Attenzione Slow motion Ma mia Che senso Quel dito monco che c'hai Dai, dai E la faccia di culo C'è qua Mi vedi? Ma perché devi andare dove vado io? Ma sei proprio stronzo, eh Cucu 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 Oh lì, ragazzi Vediamo se riusciamo a fregarlo Zitto! Zitto! Vai Zitto! Vai Zitto! Vai Zitto! Shhh! Uuuuh! Madonna! Qui? Era qui? No! Ti ricordo qui? Tu! No! Ti era quara gatti! Ma dovevo passare allora, scusa! Vai! Ola! Eh ba va! Cagare pezzo! Cagare pezzo! Cagare pezzo di merda! Oh! Facciamo un Hilton! Ma che guarda sto deficiente! Qua? Niente! Qui! Ci facciamo due tagliatelle! No! Bateria! Qui! Niente! Qui! Niente! Qui! Niente! Qui! Niente! Qui! Niente! Qui! No! E tra il segmento! Qua! Batterie! Batterie! Oddio! a fare così questi tuoni che cambiamo la batteria dai dai che c'è qua batteria qui qui oh una chiave e racconta una chiave per accedere al capanno tutto gazzo sta al capanno cos'era quel rumore ma è un fantasma l'ho visto bene o qua cos'è cos'è questo oh ok dai chiudi zio il vantaggio qua niente perché sta tremando questo che c'è vuole oh madonna qua niente qua batterie niente niente non è più andare qua dai mamma mia la vicenda si fa molto interessante chiedete la luce qua niente oddio che splashato saltino grande andiamo al buio tanto siamo sul fornicione vediamo cosa succede oh uh Like Succede sì sì Succede una ifiza se e si si Quattro batterie. Quindi? C'è no qua? Batterie? Non c'è niente cosa? Nein. Grazie a Fulminen. Quindi... Qua? Albataggio. Chi è? Chi è? Chi è padre Marty? No, campione. Qui? Oddio. Che fai tu qua? Come vedi il mio aspetto? Che stai dicendo? Che stai dicendo? Che stai dicendo? Che stai dicendo? Allora... Voi vuoi andare qua, forzat. Qui? Niente. Batteria? Dio? No. Quattro. Batteria? si andiamo qua su qua oddio anche te non te la passi bene un'altra batteria lascia così che si vedeva da dio ma questo ma da dove è uscito quello luce 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 che cosa si un'altra luce luce il c'è un cazzo attenzione a parte di seguimento niente oddio grande seguimento attenzione attenzione tanti carabinieri fanno una pattuglia attenzione ho trovato ho trovato non ti blocca ora fattoria fattoria corri corri ok e di lì che devo andare maledetto bastardo vai 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 non ci arrivi di qua eh oh santo dio aspettate che mi riprendo dopo questo sprint sprintoso ma dai ma te ci fai prendere un cancro a farci vedere così subito cacchio sento dio ecco non puoi lasciare illuminato a giorno così sì meglio no? perfetto perfetto aspettiamo un attimo che ci riprenda aspettiamo un attimo che ci riprenda no ancora vai vai no 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 ma no no vai a darvi al culo va a darvi al culo